L'EAV ha chiuso tutte le pendenze in atto e si libera finalmente del fallimento. Firmato l'atto notarile di compravendita immobiliare tra la curatela fallimento EAV Bus e l'EAV SRL, che rappresenta l'atto finale di compimento di tutte le controverse in atto, a seguito della transazione firmata il 24 aprile scorso. L'EAV riacquista così la proprietà dei beni immobili di Agnano e Comiziano, siti industriali e depositi, del valore di circa 9 milioni di euro, senza i quali l'attività sul ramo gomma non potrebbe essere svolta. F2I stringe sulla fusione tra Capodichino e l'aeroporto di Salerno, città di Amalfi, sulla base di un progetto che prevede cospicui investimenti al sud. La di Renato Ravanelli avrebbe incontrato a Napoli nei giorni scorsi il governatore della campagna Vincenzo De Luca, raggiungendo un accordo politico sulla fattibilità dell'operazione che il gruppo Infrastrutture punta a portare a termine. A fine settembre verrà siglato l'ultimo Closing, che alzerà la dotazione di fondi a 3,6 miliardi con gli innessi di altri investitori esteri affiancati da alcuni italiani. Si chiama Autoscan Capture e sarà operativo a Caserta nei prossimi giorni. È una telecamera mobile che verrà installata sul tettuccio delle vetture della Polizia Municipale o all'interno dell'abitacolo, per monitorare i veicoli in movimento e punire le infrazioni attraverso un accertamento digitale della violazione del codice della strada. Si tratta di un apparecchio tecnologicamente avanzato che consente di verificare in tempo reale se è un'automobile priva di assicurazione, collaudo o del certificato di revisione o addirittura se si tratta di un veicolo rubato. Anche quest'anno l'EAV ha attivato stabilmente il bus del mare che consente di arrivare comodamente in bus fino alle belle spiagge di miniscola e miseno. Il servizio è stabile e quotidiano da qualche giorno e resterà in funzione ogni giorno fino al 9 di settembre. La linea Vomero-Miseno è attiva ogni giorno con quattro corse, la mattina verso il mare e quattro corse di pomeriggio verso la città. Parte a Napoli dall'Arenella, da Piazza Muzzi e dopo aver attraversato il Vomero, via Piave e la Loggetta, imbocca la tangenziale arrivando direttamente a Miseno. I biglietti si fanno a bordo e il viaggio verso il mare costa andate in ritorno 7 euro. Dopo il Frecciarossa, nell'estate cilentana si preparano a salpare gli aliscafi con la novità della linea Sapri e Olie. Nei porti di Marina di Camerota e Casalvelino sono in corso i lavori di manutenzione per rendere possibile l'attracco. Ufficializzate le date della riattivazione delle corse, la prossima settimana saranno riabilitate per le linee che uniranno Sapri a Salerno, Capri e Napoli e viceversa, con sosta in tutti i porti del Basso Salernitano. I collegamenti saranno attivi fino al 31 di agosto e saranno sospesi il sabato e la domenica. Nei weekend durante l'estate 2018 dalla costiera cilentana sarà possibile anche raggiungere le isole Olie. Si partirà il sabato dal porto di Sapri dove l'aliscafo dell'Ali Costa farà rientro la domenica. L'attivazione della corsa per la Sicilia è slittata invece al 7 di luglio.